Formazioni per una torna al 4-3-3, cosa che non si importa, la difesa con Amoras, Marquez, Sorensen e Trivio, Sala, Axelis e Alton, nei tre di centrocampo, in avanti ci sono Saviola, Toni e Cristotuopoulos. Coratuono risponde con praticamente la stessa squadra che ha lì, la differenza è Bellini, Bellini per il vero, i pelisani, il piave di posti, 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 Grazie a tutti.